Oggi siamo in compagnia di Mauro Voltan che ha frequentato con successo il Master in e-commerce e gli poniamo alcune domande sulla sua esperienza. Mauro, che risultati professionali hai iniziato ad ottenere durante e dopo i tuoi studi in Digital Coach? Guarda, sicuramente ho trovato il Master che ho frequentato molto utile perché dava una visione a 360 gradi di tutto il mondo e-commerce, sia in termini di visione teorica ma anche pratica. Nel senso come utilizzo di vari tool da Magento piuttosto che anche tutti quegli strumenti che possono aiutarti anziché ti aiutano come anche l'analytics e-commerce per capire meglio il tuo sito di e-commerce per analizzarlo meglio. Quindi sicuramente è stato molto utile anche per applicare le conoscenze acquisite in aula banalmente in modo pratico nel mondo del lavoro, nel senso dell'attività quotidiana. Perfetto. Come è stata la tua esperienza di studio con Digital Coach e cosa hai apprezzato maggiormente nell'esperienza? Guarda, è stata molto positiva e ho apprezzato molto il fatto che comunque si lavorava in modo pratico nel senso che comunque non è uno di quei Master diciamo teorici dove comunque hai solo visione di slide e quindi poi acquisisci molto in modo teorico ma poi fai fatica applicarlo in modo pratico perché comunque le lezioni in aula tramite chiaramente spiegazioni dei docenti ti davano la possibilità di proprio vedere e mettere le mani nei vari tool e quindi implementare dal punto di vista pratico quello che si imparava. Ecco, in particolare proprio su quest'ultima cosa che ci hai detto, quali strumenti tu l'hai appreso e iniziato a utilizzare poi subito nella tua attività? Ma guarda, sicuramente ho migliorato le competenze, l'utilizzo di Google Analytics e di AdWords come per il mondo Google e ho acquisito maggior competenza anche se non lo uso direttamente per il tool di Magento. Perfetto, grazie mille Mauro. Sicurati, grazie a voi.